Andiamo a parlare di EBITDA e cash flow operativo. Vediamo le differenze perché Linus vi può aiutare nell'interpretare e calcolare soprattutto questi valori. Le EBITDA è un parametro di natura economica. Earning before interest, taxes, depreciation and amortization significa un margine operativo nel conto economico. Viceversa il cash flow operativo, lo dice la parola stessa, è un parametro di natura finanziaria, pertanto costruito con i flussi di cassa in entrata e in uscita che riguardano l'attività operativa. Sono due grandezze ben diverse. Le confrontiamo perché, ahimè, spesso nella vita aziendale e nella pratica degli analisti finanziari, l'EBITDA viene utilizzato come se fosse un flusso di cassa operativo. In realtà non è per nulla un flusso di cassa operativo perché è soggetto alle politiche di bilancio di conto economico dell'azienda. Ad esempio, variazioni in aumento delle rimanenze provocheranno un aumento della mia redditività operativa se la misuro con l'EBITDA. Ma quella variazione naturalmente non corrisponderà a un flusso di cassa. Anzi, una variazione positiva delle rimanenze mi genererà un flusso di cassa negativo. Andiamo a vedere un esempio grazie a Linus. Se andiamo nella pagina home di Linus, vediamo che in alto viene sempre riportato il valore storico dell'EBITDA dell'azienda. In questo caso abbiamo un'azienda che nel 2019 presentava un EBITDA di quasi 2 milioni di euro. Facendo scorrere verso il basso, andando ad attivare il rendiconto finanziario, vedono invece il calcolo del cash flow operativo. A me piace il cash flow operativo calcolato con il circolante perché è ancora più vicino, più aderente a quella che è l'attività caratteristica dell'azienda. Il valore in questo caso è di 3 milioni e 590 mila euro contro i 2 milioni di EBITDA. Quindi, prima evidenza, questi valori sono non solo di natura diversa, ma quasi sempre assumono dei valori diversi. Perché? Perché il cash flow tiene conto anche delle variazioni del capitale circolante che determinano entrate e uscite di cassa. Se volessi approfondire l'analisi, sempre all'interno di Linus, quando analizzo un'azienda, è possibile attivare il conto economico riclassificato, nel quale potrò vedere tutte le voci che compongono il mio EBITDA storico, ad esempio, e quindi vedo tutto quello che sta sopra l'EBITDA, per cui vedo in un certo periodo per quanto e in che modo ha impattato sul calcolo dell'EBITDA, ad esempio, la variazione delle rimanenze. Posso anche attivare il rendiconto finanziario di dettaglio che viene calcolato da Linus e riconciliato con il bilancio dell'azienda, questo è un aspetto molto importante, nel quale parimenti posso vedere quali sono le voci che compongono il flusso di cassa operativo. E quindi farmi un'idea di quali sono le componenti di come si sono mosse nel corso di un determinato esercizio. In conclusione, ed attivando invece gli indici di bilancio, andrò a verificare anche qual è e come si è mosso nel tempo il rapporto fra l'EBITDA e il cash flow operativo. Che significato ha questo rapporto? Il significato è quello della cosiddetta conversione di cassa, per cui vedete che più questo rapporto è elevato e più Linus tramite l'utilizzo dei colori, in questo caso il rosso, tende a darcene una visione penalizzata. Per cui se ho un rapporto di 6,30 significa che dovrò produrre 6,30 euro di EBITDA, data quella struttura finanziaria e economica di quel periodo, per avere un euro di cassa operativa. Capite chiaramente da questo numero che non va utilizzato assolutamente l'EBITDA come proxy della cassa perché potrei prendere delle cantonate mostruose.